E mi vado a quattro botteghi, qualche appartamento, l'albergo a Viserba, le fitte, un po' di bocca, che ho messo in ticiciti. C'ho messo in me, che ho messo sempre alla minestra, lo so, ma ho messo in città, preferisco i ticiciti. Ho messo tutto lì, ticiciti. E mi lavoro le stedri ma tutte, che poi niente vuole un lavoro, bisogna le spreccire, le cose, le scadenze, i contratti, però. Insomma, tante intru fissi, te la tu libertà, si una mattana te vuoi tante casa, fa casa. La mia madre voleva che studiessi. Momma studi, le zi liberi, la ipnevalie, la ervanza mea. Le ho dato un dispiacere, momma, a ncefat per studi, me dam da lavorare al mani, dam da... Ili liberi, sai da te, non ho la concentrazione. Momma un libero, quando leo tre, quattro pagine, a tenc botte, mi perdo. Che poi mi temo anche che... Tallezzi dott. Dopo, quando talle rate, un'unione dallezzi, poi un'unione, un'unione... Non è libero dallezzi. Più tallezzi, più qui ne, c'è sempre da capo. Allora da fare che? Non sbagliare. perché uscivo bene questi bordelli, però sbagliamo avevamo tutti, avevamo tutti e i suoi dopo i servolte che in fondo sono dei bravi ragazzi però la maggioranza e invece usciendo sempre scormelli che non hanno ideali che non hanno questo, non hanno quello tutti patacchetti non si scolpa chi ha la bocca poi non si rendono conto hanno i paraocchi che qui, un cambiamento continuo e un genitore le fatica un spazio sempre ragnava, sottragnava guardiamo in zio che mondo e attenta alla roba, i giovani le sentono queste cose, e invece sott chi sente cerca a sentire, che dal volto ha detto, ma che mondo lasciamo questi giovani non mi scrive mai nessuno a me che invece me è un piso da trovare un po' di posto, e allora hanno scritto da per me da Vrocci, da Petra Couta, da Muntbell da Ducascio, tu hai una cartolina saluti e sono tu scarabocci però cambi tutto il volto perché dopo se non sempre queste parole la darei sempre una roba nuova tanti saluti, saluti e baci salutissimi, saluti cari un pensiero, un ricordo arrivederci presto ma io ne senti a scalfresi per cambiare che i miei dici ma chi è questi qui? ma niente, sono amici e se io mi arrivo a stare i cartolini che li tengono in cada conto le più belle o se no dal volto ti ho fatto qualche telefonata accenno in ombra qui entriamo i pagine di Libra le ultime notizie il tempo le strade le condizioni delle strade qui ci sono dei lavori bisogna deviare la su c'è la neve ci vogliono le catene l'autostrada del sole la via Emilia la via Flaminia tenere la distanza di sicurezza che in ton sercense ut per sempre che mi chiedeci da partire